Uno va al circolo, succede in questo caso a Cireggio, pensa sempre insomma i pensionati, la bottiglia di vino, la bruschetta, insomma le cosettine buone da mangiare, magari quelle di una volta. Poi alza un pochettino lo sguardo e così si trova davanti delle vere e proprie opere d'arte, anzi due volte opere d'arte, perché il nostro onello non è solamente un grande maestro di cucina, però qui stavolta la cucina l'ha lasciata da parte perché c'è sua moglie che è in cucina, lui dà i consigli e ha trasformato il circolo davvero in un atelier, è quasi una sala mostre questa con tanti e tanti dipinti e allora a questo punto dobbiamo chiederti dove finisce l'arte culinaria e inizia l'altra arte, quella che si usa con i pennelli e con la tavolozza. E' un'arte che va da sola, cioè praticamente è dentro di me, da quando ho fatto la scuola alberghiera a Stresa fino a girare per il mondo avevo la passione per la pittura, la passione per l'avventura. Ti vediamo anche con dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo, tu hai conosciuto anche tanti personaggi, hai cucinato per loro, lei anche qualche volta ha fotografato ma spesso li hai dipinti. Sì, ho dipinto, tra l'altro come ho detto a suo tempo ero cuoco personale prediletto della squadra del Milan e ho conosciuto tutti i grandi campioni di Formula 1 che a Monza correvano e venivano nell'albergo dove io lavoravo praticamente. Siamo passati dal castello di Ripodimiana alla villa del presidente di Confindustria e siamo felicemente adesso al circolo qui di Cireggio dove hai allestito le tue opere d'arte sono appese alle pareti che vuole venire a vedere un mago del pennello dei colori può venire qui a vederlo, invece per quanto riguarda la cucina bisogna affidarsi a tua moglie che però sappiamo, segui i tuoi consigli. Mi consigli tutto quello che lei fa, io non esco un piatto che non sia controllato da me.